Cari amici ci siamo, da martedì è nato un nuovo soggetto, una nuova proposta politica di cui noi siamo protagonisti, si chiama Noi con l'Italia, non è una federazione di soggetti politici, tanti millepiedi che vengono messi insieme, delle zeppette sotto il tavolo per cercare di mettere insieme tutto il contrario di tutti, è un nuovo soggetto politico fatto da persone con storie e identità politiche diverse, la prima siamo Noi, quella che noi rappresentiamo, ci siamo messi insieme a Raffaele Fitto che ha una tradizione come la nostra, viene dal mondo cattolico, viene dalla storia di Forza Italia prima e poi del popolo della libertà e da una presenza radicata su tutto il territorio nazionale, crede nella politica come Noi, quella con la P maiuscola e di quella politica che si radica ed è innanzitutto il dialogo con la sua gente, con i cittadini che vivono nei comuni, che vivono nelle regioni non solo del sud ma del nord del paese e poi l'abbiamo fatta insieme a Fabio Tosi che ha una grande tradizione di che cosa vuol dire fare politica amministrando un grande comune come Verona ed è la politica che noi vogliamo rappresentare con noi con l'Italia, non la politica delle urla, perché quando si amministra un comune, quando si è sindaco di una grande città non si può parlare, non si può urlare, non si può descrivere l'avversario come il nemico assoluto e il male da battere, si può solo rimboccarsi le maniche e dalle promesse passare ai fatti e poi ci siamo messi insieme con Saverio Romano che rappresenta quella terra di Sicilia che in questi mesi ha voluto riguardare con positività e serietà al futuro del nostro paese e poi un liberale come Enrico Costa, già Ministro della Famiglia, già amico che ha fatto con noi tutta l'avventura prima con NCD e poi con AP e l'amico Enrico Zanetti con Scelta Civica. Prima che sei sigle, sei persone, sei storie, sei comunità che hanno deciso ad uno scopo solo, quello di mettere l'Italia al centro della propria azione politica, di mettersi insieme, di abbandonare le loro sigle o meglio di partire dalle loro esperienze dalle loro storie per fondare un nuovo soggetto politico, si chiama Noi con l'Italia e sarà non la quarta gamba del centro-destra, non la zeppetta da mettere sotto il tavolo, ma quella proposta di un'Italia moderata, seria, responsabile che vuole riportare al voto tanti amici che ci hanno abbandonato, ma che vuole continuare a dire con chiarezza che si può governare il proprio paese solo riportando alcune parole che sono dimenticate, equilibrio, serietà, costruzione anziché demolizione, non inventare proposte che poi non si potranno realizzare, noi con il lavoro, noi con la famiglia, noi con l'impresa, il lavoro che lo fanno le imprese e non lo dà lo Stato, la società che è il punto, lo scheletro portante del futuro di un paese, la società rappresentata da quelle associazioni di categoria, da quei corpi intermedi, da quelli che vogliono, da tutte le associazioni di volontariato, cioè da quelle persone, ed è Noi con l'Italia vuol dire questo, che non aspettano che qualcuno gli risolva i problemi, ma iniziano loro stessi a voler essere protagonisti della propria vita e della propria comunità, è la storia di milioni di persone che hanno fatto grande il nostro paese e che continuano a farlo, dal volontariato alla piccola e media impresa, dal professionista alla mamma di famiglia, tutti hanno lo stesso scopo, avere a cuore il bene comune proprio del proprio marito, dei propri figli, della propria comunità, si chiama paese, si chiama bene comune, si chiama Italia, questa è la sfida che avremo davanti da qui alle prossime elezioni, questo è il motivo per cui da oggi inizia insieme una grande avventura.